Ciao ragazze, finalmente il video dei top 2015 in collaborazione con Francesca. Francesca è una ragazza nuova sul tubo, ha aperto il canale dall'incirca, saranno due mesetti, nemmeno, ed è una ragazza che fa sia review su cosmetici, ma anche video vlog relativi alla sua esperienza di vita a Dubai. Francesca ha vissuto più di un anno mi sa a Dubai o all'incirca e quindi vi parla spesso, cioè ci parla spesso nei video della sua esperienza, che cosa visitare, che cosa consiglia, che cosa sconsiglia. Quindi io vi lascio qui il suo canale, la trovate come Francesca Riva, molto semplice, nome e cognome, e mi raccomando andate a vedere il suo canale perché non parla delle solite cose. Inoltre è un po' fuori dal mondo YouTube, quindi magari può avere un punto di vista ancora più neutrale. Allora abbiamo deciso di fare il solito video dei top 2015, dividendolo in due sezioni, make-up e skin care, hair care, body care e accessori e quant'altro. Dunque inizio dalla base. Per base intendo primer. Vi faccio vedere i miei due primer di quest'anno, ma in realtà uno è best degli ultimi anni. il Prime Dampor Less di Too Faced per quanto riguarda un primer siliconico per serate speciali e poi il primer per pelli secche di Puro Bio. Questi sono i due primer che mi sono piaciuti di più. Uno ovviamente pulitissimo quanto a Inci, uno invece più specifico per occasioni particolari appunto. Poi, per quanto riguarda sempre sempre la base, i fondotinta. Devo dire che quest'anno non ho avuto pace con i fondotinta, se non con lui, il Fit Me di Maybelline. Ho sbagliato la tonalità alla 120, quindi ho sempre dovuto fare mille pastrocchi per schiarirlo, però sinceramente lo amo, lo amo, lo amo perché è perfetto per la mia pelle secca. Così come ho amato e amo l'Ultimix di Bourjois, la versione Serum, che devo aver lasciato nella pochette lì dopo aver fatto la base. Quindi insomma, questi sono i miei due fondotinta preferiti. Poi, invece, una versione leggera per l'estate, io ho amato tantissimo Galenic Acqua Sublime. È appunto una crema luminosa molto molto leggera a base d'acqua fantastica per l'estate. Per quanto riguarda invece i correttori, i correttori ne ho testati diversi. Top, la palettina di MAC con le 6 tonalità, la Pro Conceal è con Red Palette. La mia è la tonalità medium ed è perfetta per, insomma, qualsiasi sottotono di pelle. Non per le pelli super chiare, però, insomma, l'ho usata davvero tanto. Così come ho usato davvero tanto il Pro Longwear Concealer, sempre di MAC, la palettina di Criolan per andare a correggere e fare contouring. Nel frattempo Topazio gioca con un cotton fiocco, ma lo butta ovunque. Sempre lui, l'Instant Anti-Age di Maybelline, perché è sempre un fidato compagno. Ho amato anche tanto il Fit Me di Maybelline, anche se ogni tanto mi si infilava nelle rughe d'espressione, però comunque mi è sempre piaciuto come correttore, quindi comunque quest'anno l'ho utilizzato davvero tanto. Poi scoperte di metà anno, l'All About Matte di Essence. Mi ha stupito questo correttore perché opacizza, tiene veramente tanto e non mi va nelle rughe d'espressione. I correttori di puro bio a matita, scoperta più recente, quando ho deciso di passare un po' al bio. Queste sono state fantastiche. E poi il correttore di Nabla, l'Under Eye Concealer nella tonalità 2.0, perfetto per andare a correggere le discromie dell'occhiaie. Poi, sempre per quanto riguarda la base, ciprie. Ne ho diverse. Ho usato tantissimo la cipria di Glossi, quella trasparente. mi opacizzava, senza seccarmi troppo. Ovviamente io la applico solo in alcune zone. Per le occasioni più speciali, la Prime Dampor Less di Too Faced e poi la Make Up For Ever HD. High Definition Powder. Topazia! Cipria fantastica, famosissima, non ve la recensisco nemmeno più di tanto perché è più famosa lei di me. Poi, come cipria bio, sicuramente la puro bio indissolubile è quella che ho usato di più nell'ultimo periodo, anche se sinceramente non mi ha fatto impazzire chissà quanto. Ecco, mi piace come cipria, ma mi aspettavo qualcosina in più, sinceramente. Al tatto, non so perché, forse avevo troppo aspettativa su questa cipria. Sì, mi piace, ma non so, non so, non so. Una cipria che invece mi è piaciuta tantissimo è questa cipria uniformante sensitive skin luna. La tonalità 0-1 luna, che mi sembra che è della Clarence, ma non mi ricordo più perché l'avevo cercata su internet, questo è un campioncino che mi è stato dato in farmacia, quindi vi scrivo qui la marca. Ed è fantastica, come può pacienza questa cipria, nessuno mai quasi. Sì, veramente questa la uso nelle occasioni speciali, è un po' più scura della mia tonalità di pelle, quindi l'ho usata soprattutto più in estate e mi è piaciuta tantissimo. Da quando l'ho scoperta, veramente, ho sempre usato nelle occasioni più particolari dove c'era più caldo, l'ho usato lei. Poi, come sempre prodotti per il viso, tutti i prodotti sia in polvere che in crema per il contouring e l'highlighting di Mulac. Effettivamente sono dei prodotti molto buoni, molto facili da sfumare, tengono davvero tanto, quindi io ne ho provati diversi e effettivamente mi sono piaciuti, quindi ve li consiglio. Così come gli illuminanti, diciamo, che mi sono piaciuti di più, sono stati tre. Basse, neutra, leggermente dorata, Mary Luminizer, Mary Lumanizer di The Balm. Questo è quello che ho indosso oggi, sia come punto luce che come punto luce sugli zigomi, ed è fantastico, è un illuminante neutro, perfetto per tutti, secondo me, tutti i sottotoni di pelle. Invece, un illuminante a base rosa, High Beam di Benefit, e invece, anche se non c'è più, comunque è quello che io ho usato di più da quando è uscito, l'illuminante di Pupa della Paris Experience, il Golden Infusion, nella tonalità A1, ed è l'illuminante che ho usato quest'estate, perché comunque è un po' caramellosa come tonalità, quindi è più specifica, secondo me, per l'estate. E poi, come blush? Blush, sinceramente, non ne ho usati tantissimo, a parte quello di Mulac, o uno di Catrice, quelli, diciamo, su cui mi sono più indirizzata nell'ultimo periodo sono quelli in crema. Questo, nello specifico, è quello di Kiko, della Rebel, lo 04, quello che indosso, ho tutte e quattro le tonalità, mi sono piaciute tantissimo, hanno una lunga tenuta, così come hanno una lunghissima tenuta i Liquid Tech Blush di Nabla. Sicuramente acquisterò un'altra tonalità, perché questa è classic, ed è un po' una tonalità... Per quanto riguarda le matite, non ho comprato matite, devo dire, sono una matita, una matita nera, che mi serviva, la Bombay Black Velvet Line di Nabla. Sinceramente, io non amo particolarmente la matita nera, non mi sta bene, perché comunque mi rimpicciolisce l'occhio, però comunque mi serviva, ne avevo sentito parlare bene, e confermo che perlomeno su di me ha un'ottima tenuta. Non piace a tutte, però se vi capita di provarla, fatelo, perché a me, sinceramente, le matite non durano particolarmente tanto, soprattutto la matita nera, perché comunque io stanutisco sempre l'occhio lacrimoso. Però devo dire che io non sono un'esperta di matite nere, quindi non ne ho provate tante nella mia vita, quindi sicuramente ho una conoscenza limitata rispetto a tante altre persone. Quindi per me questa è promossa. Come invece mascara, i miei mascara dell'anno sono stati sicuramente l'I Love Extreme di Essence, il Lush Princess, sempre di Essence, mi sono piaciaci tanto, i Vamp nella formulazione sia waterproof che classica, e poi le film noir di Nabla, che sinceramente mi è piaciuto pur non essendo troppo volumizzante. Vi devo caricare la recensione che avevo fatto tempo fa e che mi sono dimenticata di caricare. Poi, come eyeliner? Eyeliner, ho usato quello di Kiko, ancora il gel eyeliner di Essence, che ce l'avevo praticamente intatto, ma anche l'eyeliner di MAC, però è molto più fluido questo di Essence, quindi sicuramente mi piace di più, peccato che non si trovi più. Come ombretti, i Long Lasting di Kiko, ma li porto sempre in viaggio, sono ottimi, e come altri ombretti in crema, i Paint Pot di MAC, Perky, quello che ho amato di più, e poi vabbè i Nabla, che sicuramente sono le ultime new entries del periodo, ecco, mi piacciono davvero tanto, se usati nella quantità giusta. Come ombretti, sinceramente, quest'anno non ho comprato palettine, continuo a usare la Boudoir Eyes di Too Faced, che mi piace tantissimo, è stato sicuramente l'anno dei Nabla, e delle cialdine singole barra palettine, che ho composto. Ne ho davvero di tutti i tipi, e le ho composte in questa maniera, vabbè questa è vuota, perché poi c'ho quella grande, e poi c'ho questa, e poi vabbè due ombretti di MAC, Satin Top, Frost e All Death Glitters, questi sono gli unici ombrettini che ho acquistato, perché comunque di ombretti ne abbiamo tutte, nessuna palettina insomma. Per quanto riguarda invece le labbra, e ho finito, non vi dico solo che ho finito, lui, il gloss della mia vita, il Lip Maximizer Collagen Active di Dior, questo è stato un regalo, è fantastico questo gloss, io che non ho mai amato particolarmente gloss, questo praticamente ce l'ho sempre in borsetta, e lo amo, perché comunque mi fa queste labbra color collagen, questo rosa delicatissimo, questa freschezza mentolata, dà un po' di pizzicorio, mi piace proprio tanto, 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 tanto. Come ho finito, posso dichiarare di aver finito quasi, i L'Oreal Paris, i Caress, mi sembra si chiamassero, devo andare a rivedermi il nome, perché non me li ricordo, i miei due preferiti, il rosso, che si chiama, oh mamma, ah sì, Shine Caress, questo è il 300 Juliet, e poi un altro mio preferito, che uso praticamente giornalmente, il 103 Marilyn, fantastici, questi prodotti mi sono piaciuti tantissimo, perché sono dei rossetti a lunga tenuta, glossati, perfetti per chi ha le labbra, sia sottili, che secche, ogni volta che mi vedono questi gloss, e io quando mi guardo allo specchio, vedo le labbra rimpolpate, fantastici, così come mi hanno stupito, i gloss idratanti di Nabla, acquisti degli ultimi periodi, in realtà questi me li hanno regalati, per appunto gli acquisti che faccio ogni volta di Nabla, nell'erboristeria della mia città dove mi servo, e sono gli Hydrating Shine Lip Gloss, veramente fantastici, io ho Surf, questa tonalità azzurrina, mi piace tantissimo, e poi Ambrosia, bellissimo, anche se può sembrare un colore un po' vecchiardo, e un rosa pesco, con tutti i glitterini, un po' champagne, effettivamente è un colore che forse sta più bene alle signore, però mi piace tantissimo, soprattutto al centro come punto luce, come rossetti, devo dire che i Mulac, della linea Susan G. Common, mi sono piaciuti tantissimo, devo dire che il mio rossetto preferito dell'anno, al nude, è stato questo, Miss Grace, un rosa bellissimo, neutro, non mi fa i denti gialli, scusate, super idratante, vediamo se sto ancora registrando, sì, se lo trovate, prendetelo perché è ottimo, davvero ottimo, 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 e poi, sempre lui, il primer di MAC, che mi sta terminando, il Prep & Prime, perfetto come base per tutti i rossetti a lunga tenuta, come matita contorno, labbra trasparente, la Nabla, la Ghost, e poi, come altri rossetti, sicuramente è stato l'anno dei Nabla, dei Diva Crime, questo è Domina, ma in realtà, ne ho davvero tanti, 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 dovrei fare una review, se riesco magari, e poi è stato l'anno dei Bourgeois, i Bourgeois Rouge Edition Velvet, io li ho, non dico tutti, però, ne ho almeno una decina, non hanno paragone, secondo me, con gli altri, mi piace il finish, anche se non hanno un'altissima tenuta, sono fantastici per me, che ho le labbra secche, e adesso indosso questo qui, che è Plum Plum Girl, il numero 14, insieme a Pink Pong, che è al centro, dove l'ho messo? Come vi dicevo, l'altro invece, quello che ho al centro, è Pink Pong 06, però devo dire, li ho amati tutti, io, purtroppo, le tinte opache, non le posso portare, per esempio, i rossetti, che sono andati quest'anno, tantissimo, a lunga tenuta, sono i Wycon, che su di me, purtroppo durano, non voglio dire, 20 minuti, mezz'ora, però, giù di lì, purtroppo, ho delle labbra, che comunque, non amo particolarmente, non può permettersi, dei finish, troppo, troppo secchi, questi invece, avendo un effetto velluto, sono più confortevoli, rispetto a quei rossetti lì, quindi, se anche a me avete questo problema, provate i Bourjois, per esempio, non ho provato, la versione acqua, sempre di Bourjois, usciti, verso metà anno, adesso ne è uscita una nuova formulazione, che sicuramente proverò, che vi devo dire, niente, li amo, li amo proprio tanto, 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 anche se magari, non hanno una super altissima tenuta, però sono quelli che, più sono confortevoli, sono più confortevoli, sulle mie labbra, e, cos'altro? Penso di avervi detto tutto, sì, ah, ovviamente, questo è stato l'anno delle spugnette, queste sono tutte le spugnette, ups, che ho usato di più, la Makeup Blender, Makeup Blender di Kiko, questa lilla, la spugnettina, invece, Real Techniques, però, che è un po' più delicata, rispetto alle altre, e poi, la, le mini Beauty Blender, e, anche se, sono, appunto, una, è un'entrata più, recente, rispetto a tutte le altre, boccio, tutte le spugnettine, simil, Kiko, e quant'altro, di Ebay, e Aliexpress, perché, si macchiano, all'istante, e praticamente, il prodotto non viene più via, quindi, ne ho acquistate diverse, però, così come le uso, un altro po' le butto, e, queste non le ho ancora mai usate, e, non so nemmeno se le utilizzerò mai, perché, tanto, se si macchiano, e non le riesco a struccare, che cosa le utilizzo a fare, comunque, va bene, questo è quanto, e, vi avevo detto che era molto, molto breve, ci vediamo con, invece, il video, sempre sui top, relativi ai prodotti viso, capelli, corpo, tutto quello che, non riguarda il make up, vi ricordo di andare a vedere, il video di Francesca, a cui mando un bacio gigante, spero di rivederla, presto a Roma, perché Francesca, l'ho potuta conoscere, quest'anno, cioè, l'anno scorso, in realtà, ed è una ragazza fantastica, proprio, genuina, mi viene da dire, e, quindi, io, mando un bacio ancora a lei, a tutte voi, e ci vediamo al prossimo video, ciao!